Oggi Vittoria, Leone, Chiara e Federico sono al lago di Como e si rilassano un pochino. E' un piadone di popatroll. Vitto pensa che sia un lucido a labbra. Ma che bella amore! E' ancora in castigo? E' bruttissimo! E' bruttissimo! Bravissimi Chiara e Federico che hanno portato a prendere un po' d'aria pulita al piccolo Leone e alla piccola Vittoria. Grazie a tutti! Grazie a tutti!